E' stato approvato con ordinanza dal commissario straordinario Roberto Pagone il progetto definitivo del potenziamento del collegamento la mesieterme Catanzarolido-Dorsale-Ionica. Il progetto di rete ferroviaria italiana sarà realizzato in tre lotti velocizzazione mediante rettifiche di tracciato dalla tratta la mesieterme Settingiano ed elettrificazione della tratta la mesieterme Catanzarolido, elettrificazione della tratta Sibari-Crotone ed elettrificazione della tratta Crotone-Catanzarolido. Gli interventi di elettrificazione permetteranno di incrementare la sostenibilità ambientale e acustica del trasporto ferroviario calabrese, oltre a migliorare il servizio offerto in termini di comfort e prestazioni. Grazie ai nuovi treni elettrici sarà anche garantita la continuità del servizio. Gli interventi di velocizzazione renderanno inoltre possibile una riduzione dei tempi di percorrenza lungo la direttrice la mesieterme Catanzarolido. L'intervento complessivo dal valore di circa 438 milioni di euro è finanziato anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con attivazione prevista entro il 2026.